Siamo qui con due attori che leggeranno alcuni stralci di questo bellissimo testo, ma il mondo sarà salvato dai ragazzini? Lo speriamo, anche se la speranza poi pasolinianamente si dissolve giorno dopo giorno, ma comunque l'unica speranza è che dai ragazzini vengano formate una classe di cittadini più consapevole e soprattutto più buona. La nostra tendenza deve essere soltanto quella, formare una nuova classe di cittadini. Ovviamente questa è la speranza, ci sono tante iniziative come questa che propugnano questa speranza, ci invitano. Mi viene in mente qualche giorno fa la nave della legalità, ho visto tanti ragazzini che ascoltavano, cantavano, parlavano e discutevano di legalità, di giustizia. E questo significa creare un mondo migliore, attraverso la scuola, attraverso iniziative che ricordano chi ha scritto per i ragazzi, attraverso i nuovi scrittori che scrivono per i ragazzi e di loro. Io la speranza ce l'ho e quindi mi auguro di riuscire a vederlo, questo mondo salvato dai ragazzini. Grazie. Grazie.